Ciao a tutti, prima di tutto mi presento, sono Leonardo Alza Grande, sono della Quarta Ammissia dell'Istituto Tecnico Rasse Newton di Scandici. Oggi mi è stato chiesto di presentare un po' la mia idea che sono fatto sul progetto che è stato effettuato qui a scuola, chiamato Impresa Simulata. Prima di tutto, come posso dire, è stato molto coinvolgente come progetto, molto istruttivo e molto formativo, coinvolgente perché dopo averci dato un po' le basi, averci spiegato l'azienda, come funziona, gli organi direttivi, come effettuare una ricerca, un marketing, ci hanno fatto appunto simulare un'azienda vera e propria. È stato molto divertente, con il tempo stesso molto istruttivo, ci ha mostrato come in azienda si lavora, come vengono sviluppate le idee, come tra i vari organi amministrativi vengono esposte queste idee raccolte e grazie a ciò oggi siamo usciti da questo progetto con un concetto migliore, più formato di come si lavora in azienda. Grazie a tutti.